Assicurare un migliore soccorso a cittadini e villeggianti che nei mesi estivi hanno scelto le località turistiche della provincia di Salerno. Questo è l'obiettivo di AslinTour, la salute arriva, la campagna di comunicazione itinerante voluta dall'azienda sanitaria locale per informare i salernitani e non sui servizi organizzati nelle località balneari per il 2018. Una iniziativa partita da Lungomare Marconi di Salerno che terminerà il 31 agosto e che si inquadra in un progetto più complessivo che prevede l'incremento dei servizi e degli ambulatori della rete dell'emergenza territoriale oltre che le istituzioni di punti di soccorso e sorveglianza balneare sulle spiagge più popolose di alcuni comuni costieri con la presenza di personale dotato di defibrillatori fra le spiagge anche quella salernitana proprio del Lungomare Marconi. Non soltanto il camper anche un'assistenza specifica giornalire dalle 9 alle 18 sulle spiagge della costiera marfilana e della costiera cilentana, di tutta la zona di Salerno, della provincia di Salerno. Sono 19 le postazioni per queste quotidianità dove il personale del 118 e i volontari delle varie associazioni si adopereranno per dare sicurezza e tranquillità e un'assistenza diretta ai cittadini delle nostre spiagge. Importante anche la dotazione di defibrillatori che saranno appunto posizionati in vari punti? In tutti i punti ci saranno i defibrillatori che saranno consegnati stamattina alle associazioni di volontariato e saranno una garanzia e una sicurezza per qualsiasi emergenza. Chiaramente saranno anche queste postazioni un filtro per chi non si ingolfi il 118 e l'emergenza con le ambulanze all'interno di questo che è il percorso dell'emergenza salernitana. Grazie. Grazie. Grazie.